Uno studente universitario di cui si sa solo che è nato sotto il segno dei gemelli ha vinto 500.000 euro grazie a doppia sfida di Gratta e Vinci ad Altamura. Si tratta del premio massimo messo in palio dal biglietto e il 27 il numero vincente che ha regalato la vincita realizzata nel punto vendita di Maria Pellegrino in via Carpentino al 45. Siamo molto contenti perché anche quest'anno la Dea Bendata ci ha fatto visita prima di Natale. L'anno scorso infatti ha commentato la titolare del punto vendita. Nello stesso periodo sono stati vinti qui da noi 100.000 euro. Il nostro è un punto vendita che si trova in una zona di passaggio con tanti negozi. Inoltre nella piazzetta qui dietro c'è il mercato con un gran via vai di gente. Chi ha vinto potrebbe essere chiunque. Tanti auguri al vincitore e a tutti i miei clienti. Da gennaio 2016, riferisce la nota, Gratta e Vinci ha distribuito in Puglia vincite per oltre 450 milioni di euro e sono già otto i neopaperoni che in regione da inizio anno si sono aggiudicati le vincite massime, cioè i primi da 500.000 euro in su messi in palio dai biglietti.